La cosa più bella e soddisfacente è mia mamma. Mia mamma ha 87 anni e dal giorno dopo il mio matrimonio, 35 anni, ci siamo telefonate ogni singolo giorno. Mio padre già non c'è più, ma voglio sempre far sapere ai miei genitori quanto voglio bene a loro. E quando parli con qualcuno ogni singolo giorno noti tanti piccoli cambiamenti, sia in presenza che al telefono. Però negli ultimi tre o quattro anni queste conversazioni con mamma sono diventate molto difficili. Non si ricordava mio nome, non si ricordava che fosse sua figlia. E le volte che andavo a trovarla, anche se indicavo la foto del mio matrimonio che lei ha in casa, non si ricordava che fosse sua figlia. E quindi era devastante. Appena ho iniziato a dare ciotti a mia mamma, ho notato che la sua energia è migliorata molto. Ha 87 anni, ma cammina tantissimo. È molto forte fisicamente. Capace di gestire il caos di una grande famiglia italiana, con tutti i nipoti e i dati parenti. Appena sono tornata a casa, da questa visita di famiglia, insomma, lei mi ha chiamata e era tanto che non mi chiamava. Perché sono sempre io che chiamo. Il fatto che lei mi avesse chiamato per me era veramente toccante in questo momento. E chiedevo aiuto ai miei fratelli e sorelle per mettere i cerotti. Dall'inizio della seconda settimana in gennaio. Sa esattamente chi sono. Ieri mio marito ed io abbiamo parlato con mia mamma da 54 minuti al telefono. Era corrente, logica. Ogni tanto si ripeteva un pochino, ma niente di grave. Non ho nessun studio clinico o rapporto medico su mia mamma, ma noto da questi piccoli cambiamenti che migliorano. Anche mio figlio che sta per andare a trovarla, si ricorda il nome, si ricorda che sta per venire, a trovarla. E insomma, perché un mese, mezzo, due mesi fa non si ricordava chi fossi, mi confondeva con uno sui casi infanzi. Iniziava a avere paura, era paranoica, tutte quelle piccole cose che iniziano a succedere alle persone che sanno che stanno perdendo la memoria.